Esultano i 5 Stelle perché si riparte da legali, come la nostra proposta, dice Di Maio, che rinnova al PD l'appello al dialogo e si rivolge al capo dello Stato. Lo dico anche al presidente Mattarella, che ovviamente ha fatto un appello e può esercitare la sua moral suasion. Ci dà una mano ad arrivare ad un punto di caduta perché se ogni volta che noi apriamo e siamo disponibili, il partito di maggioranza spariglia mettendo un'altra legge sul tavolo, non ne usciamo più.